Adesso la medaglia d'argento dei mondiali 213 di Stonami in stop style con una nota 6 settimane di 5 metri che ci si è chiesto a portare a causa della sua ernia a risco, bufi destra avanti, un'isossessa naturale molto buona sul primo rail quasi semplicemente a passare la prima struttura per andare in fronte e il no slide per cui far scivolare il naso e la tavola sull'altro rail Parla, ovviamente è proprio giusto, ci sono tre errori, ha fatto il giusto questo il 600 in switch, va su una semplice cab 540, una notazione in mezza in switch Adesso il next side 360, è lo ampio, non grabato 9,000, 1,000, 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 1,000